Se siete un po' stretti in realtà si può spostare un po' il tavolo in là, penso. No, però sta bene, non so. Non lo sta bene. Fate un attimo, bisogna di subire una cosa. Che contano per lì? Allora, va. Per il PR Pisano. Contano? Per il PR Pisano, non quello toscano. Mi faccio un PR Pisano. Eh, siamo io, nulla, Giuseppe, Vlad e Fitless. Ah no. Cinque. No, vabbè, giocate quel che volete. Io ad esempio oggi vado solo Mario Chico. Solo Mario Chico. Eh? Vedremo. No, vabbè. Nó. no eh? vabbè dai, adesso devo andare a mettervi l'orecchio in bocca per sentire PG, dai mi fido, su via andiamo qui, un bellissimo down frappere no, la bistecca di Giuseppe eccola, eccola, scassato, 1-0 per il Dex vai, vai, facciamo un B5, va bene, dai, B5 si, 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 B5 tutto si, si, non penso, faremo niente dopo, se ci gira proprio, ma non penso no, 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 no No, non ho fatto. No, non ho fatto, non ho fatto, non ho fatto. No, non ho fatto, non ho fatto, non ho fatto, non ho fatto. Il coglione Best of 5, tanto facciamo solo questo Tanto facciamo solo questo Più 5, più 5 dai Ma come ricazzo? Guarda che percentuale Coglione 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 Cazzo Cazzo Coglione 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 Ah per la corona che non c'è bisogno di commentare Basta che aggiorniamo i risultati No perché mi fa fatica Coglione 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 Hmm? Grazie a tutti. 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 a tutti. e... a tutti. 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 Sì, vabbè! Chi è VCSmash? VCSmash Che fa Dex e poi fa Cina Triste Giuseppe, chi è VCSmash? VCSmash Che fa Dex e fa Cina Triste Chi è... Ah, ok Beko Chi è VCSmash 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 Offi spi Ah ok, 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 il generale è divin Ho cominciato a parlare come parlo io a Pietro Nord Wow scassato ah no Wow distrutto Solo uno Eh? Dov'è? Dov'è? Destra Ciao Gianni Gianni Ok l'ho persa la chiamata Ah mi sa che ho perso la chiamata Vabbè Ah mi sa che ho perso la chiamata 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 Stai prendendo un po' di cazzo? Eh? Allora ti sei inficcato il cazzo là solo in culo Un talento Secondo me è la prima 180 gradi cioè Anzi in realtà sono anche più in costante Broder No pari Che allora Ok No pari No pari No pari No pari No pari Non pari Non pari Non pari Non pari Olsi Oh! Grazie a tutti E quindi 3 a 2 per Vicinti Duo Scusa per MK Peridot Mera colpa 3 a 2 Ok Quindi in realtà penso di poter mandare qualcosa Allora Postazione 3 Dex MK Peridot E E le altre due dobbiamo aspettare un secondo finisco a loro Qua manderemo il Pittoro e l'Iviginti Duo Ultra Quindi nulla puoi anche al Sarti Puoi anche al Sarti giocherai poi lì con Ultra Dopo ho capito Ehm Finito Grazie a tutti Sarti giocherai poi Grazie a tutti. Grazie a tutti.